Ecco, vediamo in questo momento lo street control che sta riprendendo con la telecamera tutte le auto ferme a Pastena. Qui c'è la pattuglia dei vigili urbani di Salerno e come possiamo vedere ci sono ancora altre autovetture e lo street control con la telecamera sta riprendendo tutto ovviamente ecco adesso ci troviamo sempre a Pastena vediamo come lo street control dei vigili urbani controlla tutte le autovetture in sosta guardate, ecco si può notare che in alto a destra c'è una telecamera parte questa mattina lo street control come sta andando? L'apparecchiatura è efficace noto con soddisfazione che i salernitani stanno evitando di mettersi in seconda fila dove c'è il divieto di sosta comunque l'apparecchiatura ci sta dando insomma i riscontri che credevamo ci potesse dare dunque passa l'auto dei vigili urbani con la telecamera riprende le auto in doppia fila e tutte le auto senza autista vanno in tempo reale al comando si, appena viene rilevata la targa tramite il tablet che è in dotazione inseriamo l'infrazione che rileviamo e viene inviata al comando che è pronto a mandarle a casa dell'utente si riesce a controllare anche se è pagata l'assicurazione? si, è una delle performance dell'apparecchiatura praticamente se il veicolo rilevato non ha l'assicurazione pagata o la revisione effettuata ce lo segnala in tempo reale in tempo reale